Per quanto riguarda l'aggiunta di ieri vorremmo sottolineare una decisione che consideriamo innovativa e di grande interesse. Abbiamo deciso di far partire il bando, concretamente, per lo stanziamento di 17 milioni di euro a vantaggio dei liberi professionisti. Ricordate che facemmo qualche mese fa un'iniziativa promossa con tutti gli ordini professionali. Abbiamo deciso di destinare 17 milioni di euro per dare una mano all'organizzazione degli studi professionali. La logica è un po' questa, utilizzare i fondi europei nei confronti dei liberi professionisti omologati in qualche modo alle piccole e medie imprese. Il bando parte subito, ci saranno 10 milioni di euro destinati a studi professionali. Daremo priorità a giovani di età non superiore ai 35 anni. Il sostegno è relativo all'attrezzatura degli studi professionali, all'implementazione delle tecnologie moderne per l'organizzazione degli studi stessi. Prevediamo poi l'investimento dei 7 milioni di euro a favore sempre degli studi professionali per i programmi di partenariato tra ordini professionali e università, per i programmi di formazione dei giovani professionisti che vengono impegnati negli studi professionali e per il finanziamento di percorsi formativi individuali. A noi sembra una misura estremamente innovativa, in grado di dare respiro a decine e decine di giovani professionisti che, pur avendo il più delle volte grandi qualità professionali, sono bloccati dalla difficoltà di avviare uno studio professionale. Grazie 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 Grazie